ciao a tutti e benvenuti in questo video dove andremo a vedere la gestione delle layer delle annotazioni in questo caso all'interno di QGIS 3.22 facciamo una premessa intanto cosa sono le annotazioni? le annotazioni sono quegli oggetti che possiamo mettere in maniera veloce all'interno nostro progetto possano essere testi, punti, linee, poligoni che mi aiutano un po a fare una rappresentazione grafica di investizione veloce senza dover utilizzare magari etichette, shapefile e così via. adesso vi farò vedere quello che si poteva fare fino alla versione 3.16 poi andremo a vedere il pannello nuovo per gestire all'interno del 3.22 allora mi carico un'immagine raster in questo caso carichiamo un'olto foto eccola qua ok se io avessi voluto fare diciamo non so un un testo veloce un cerchio che mi rappresentasse una certa zona io potevo farlo solamente all'interno del layout se no in questo caso avrei dovuto farlo qua ma facendo cosa una simulazione ma è tipo aver fatto non so uno shape puntuale in cui il simbolo lo lasciavo a zero e poi magari mettere un testo o se no mi toccava fare uno shape solamente per un cerchio quindi capite che non aveva neanche senso allora tante volte cosa si faceva ci andava un layout di stampa giusto ok faccio il mio layout eccolo qua non so diamo la scala ok allora io mi facevo magari non so il mio testo in questo punto lo so ho fatto un po troppo l'out ok non so località eccolo qua forse diamo il carattere facciamo un 25 un bel arancione eccolo qua e io lo mettevo qua magari non so località eccola qui cosa succedeva se io andavo a cambiare magari la scala 5000 ovviamente vedete il testo veniva fatto cioè tutti gli oggetti che io faccio il layout venivano fatti sopra alla stampa quindi anche se andavo a spostare la mappa vedete che giustamente il testo rimaneva lì stessa cosa se avessi fatto non so un poligono non so per evidenziare questa zona magari eccola qua adesso lasciamo stare il fatto che sia pieno o no poi se io andavo a spostare vedete che rimane lì quindi il problema è sempre legato al fatto che questi oggetti non sono già referenziati ma sono fatti sopra alla stampa quindi è vero queste problematiche qua poi ovviamente potevo anche fissare come ben sapete anche con l'occhetto la mappa quindi evitavo di cambiare la scala però comunque è una cosa sempre difficoltosa da gestire mentre con la versione 3.22 è stata implementata una modalità nuova della gestione delle annotazioni intanto la prima cosa io l'ho già attivata comunque di default questa barba non c'è qui ci dobbiamo andare su visualizza barba degli strumenti e accendere barba delle annotazioni questa barba dell'annotazione come vedete mi da queste serie di icone in cui la prima icona ho la possibilità di lavorare direttamente sulle annotazioni principali che però vedremo poi che non conviene non conviene farlo per delle problematiche a proprio questa tipologia creare nuove layer di annotazione questo va bene poi la possibilità di selezionare l'annotazione fare le modifiche creare il poligono creare la linea creare simbolo marker o creare il testo questo qua è la vecchia annotazione testuale che sicuramente conoscerete era quella di fare questa specie che veramente è brutto ed è brutto in cui si poteva sì fare qualcosa di personalizzazione ma era molto limitato allora vi dicevo se io vado a fare direttamente così delle annotazioni tipo fare un poligono facciamo una cosa del genere ok vado a fare una linea vedete che sul contenitore non viene fuori nessun layer annotazioni quindi vuol dire questo qua è un layer quindi lo chiama come dicevo come avevo detto layer di annotazione principale in cui io non posso spegnere e accendere e non fare niente quindi non ha senso ripeto fare delle annotazioni in questo qua non so perché sia stato implementato questo layer di annotazione principale che effettivamente non è gestibile quindi andiamo pure a cancellare gli elementi quindi basta selezionarli e fare un cance cosa che noi dobbiamo fare è creare un nostro nuovo layer di annotazione ovviamente questi layer di annotazione noi possiamo farne più di uno quindi ne facciamo uno adesso così possiamo rinominarlo quindi annotazioni non so località le facciamo così ok le facciamo anche un altro non so annotazioni di ufficio ok allora io devo scegliere in questo caso devo fare un'annotizzazione riguardante le località della mia mappa quindi vado lo seleziono così e posso tranquillamente a questo punto ad esempio fare un testo vado qua qui ho fatto un testo qua lo chiamano questo è carea comuni carea vedete la gestione anche dello stile in questo caso dei testi è come quello delle etichette quindi ho una personalizzazione massima di tutto quello che vado a fare quindi posso cambiare tranquillamente il mio font cambiare il colore cambiare l'altezza dopo utilizzare le ombreggiature e quello che voglio eccolo qua in questo caso capite bene che io ho fatto il mio testo e spegnendo e accendendo io posso tranquillamente quindi far scomparire il testo all'interno dell'annotazione non ho il vincolo posso fare solo testi oppure le linee posso fare di tutto quindi qua potrei fare anche un poligono velocità di che voglio lo so questo quartiere qua evidenziarlo eccolo qui posso poi lavorare sulla retinatura cambiare anche qui i contorni cioè posso personalizzare tutto anche qua è legato ovviamente all'annotazione e località quindi spengo e accendo voglio fare quelle di ufficio tipo qua e dico non so in questo punto qua quindi faccio una linea ok questa linea qua invece linea semplice la metto ad esempio non so una freccia eccola qua avete fatto una freccia proprio in super velocità insomma questa è la sposta eccolo qua e dico che qua non so quindi faccio un testo eccolo qua faccio un testo e metto non so da controllare da controllare quindi anche qua un bel azzurro un bel 30 eccolo qua esagerato eccolo qua ecco per cui ho due lei anotazioni ho quello d'ufficio vedete che è indipendente dall'altro quindi capite bene che se voi dovete fare un testo veloce una freccia un un poligono qualcosa di diciamo o abbellimento o anche di notte diciamo di controllo avete una possibilità super veloce sfruttando queste annotazioni qui e cosa importante ovviamente che se io faccio il layout di stampa dall'altra parte ok rifacciamo un po' quello fatto prima eccolo qua adesso facciamo scala 30.000 ok cosa succede è che se io mi sposto non ho più il problema che avevo prima c'è il senso che queste qua sono giustamente fatte sono zero inferenziate sono nelle coordinate quindi seguono la mappa quindi anche se cambio la scala vanno sempre nel punto in cui le ho fatte bene vediamo un altro paio di cosine riguardante il discorso dell'annotazione sempre allora innanzitutto c'è la possibilità di modificare anche quegli oggetti che noi facciamo quindi ad esempio finiamo un attimo così il rust se io vado a modificare ad esempio questo poligono qua vedete si vedono leggermente ma ci sono dei puntini rossi nei vertici quindi posso trascinare tranquillamente il mio poligono vado vicino il perimetro posso fare doppio clic mi crea un vertice nuovo e posso modificarlo stessa cosa nella linea ecco se ecco qua vediamo la mica presa eccolo qua e posso anche qui spostare e così via quindi posso essere tranquillamente modificati poi sul discorso delle caratteristiche degli oggetti se vediamo se vado a selezionare un oggetto ok vediamo che c'è questi due valori qua ci sono allora intanto vediamo cos'è l'indice Z l'indice Z è la possibilità che nel caso io abbia degli elementi sovrapposti il valore più alto dell'indice Z va sopra quindi se questa figura qua grigia la metto qua e adesso questa ha valore 0 questa qua ha valore 0 se do a quella sotto il valore ad esempio 1 vedete che ci va sopra se questa qua do un valore non so 5 ci va sopra quindi il valore più alto che ha in questo caso il poligono un altro oggetto oggetto va sopra in primo piano rispetto all'altro poi è molto importante il discorso scale del riferimento cos'è la scala del riferimento che se io andassi a fare facciamo su un testo quindi io vado qua io so che la mia stampa che andavo a fare sarà un 10.000 quindi mi conviene mettermi qua su 10.000 vedete così ok vado a fare il mio testo lo faccio qua ok facciamo pure il testo lo faccio 20 arancione sempre con un buffer ok lasciando la scala del riferimento 10.000 cosa succede? vedete che se io mi allontano mi avvicino vedete che il testo è sempre comunque fisso rispetto al resto nel caso invece andassi a togliere questo qua vedete che il testo mi varia un po' in base alla zoomata quindi questo cosa mi permette che fissando 10.000 con la scala ovviamente che ho fatto 10.000 posso vedere già in questo punto qua come va poi l'anteprima di stampa se avessi anche di altri etichetti vicino ad altri oggetti ho una sensazione reale proprio come quella in cui andrò a stampare quindi ricordatemi sempre quindi punti o testi di utilizzare sempre a scala riferimento ok ultima cosa importante che ho da dirvi è il fatto che queste annotazioni come ben avete capito non sono ovviamente file cioè nel senso non ho che fisicamente che nel mio disco nel mio computer si sono creati dei file questi sono quindi dei testi degli oggetti che sono parte integrante del file progetto in questo caso quindi del QGS Z Q Eccoli qua QGS Scusate QGZ ok quindi fa parte del progetto quindi non posso esportarli non posso copiarli su un altro progetto ma fanno parte solo del lavoro che sto facendo in questo momento magari in futuro verranno fuori dei plugin qualcos'altro che mi permette magari di esportarli e di salvarli ma per adesso ma mi può andare anche bene così sono degli oggetti a sé stanti in questo progetto qua nel progetto di lavoro bene mi sembra di aver finito concludo qui e spero che il video possa essere stato d'aiuto e aspetto eventualmente commenti salve ciao a tutti grazie a tutti